il punto si usa quando tra due frasi due periodi o due sezioni più o meno ampie di un testo c'è un'interruzione forte o perché cambia l'argomento di cui si parla oppure perché cambiano le cose dette su quell'argomento faccio un esempio leggo da un sito internet la trama di un film che quasi sicuramente avete visto il film è avatar jake sally è un ex marine costretto sulla sedia a rotelle punto grazie agli esperimenti portati avanti dalla dottoressa grace augustine per jake si presenta l'opportunità di riprendere l'uso delle gambe punto sally sbarcherà su pandora un pianeta dove la mancanza di aria costringe gli uomini a trasformarsi in avatar ibridi tra gli umani e i navi in cerca di minerali preziosi punto ecco vedete che questo testo è diviso in tre parti in tre segmenti possiamo dire anche ricorrendo alla terminologia grammaticale in tre periodi al centro del primo pezzo del primo segmento c'è jack sally e in questo primo segmento si spiega chi è è un ex marine costretto sulla sedia a rotelle poi comincia la seconda parte c'è sempre jake poi però c'è un altro personaggio la dottoressa grace ma l'argomento più importante di questa seconda parte è un altro l'opportunità per jake di riprendere l'uso delle gambe e poi comincia una terza parte in cui si parla sempre di jake ma che ha al centro un terzo argomento diverso dai primi due pandora un pianeta dove la mancanza di aria costringe gli umani a trasformarsi in avatar un testo tre segmenti che hanno al centro argomenti diversi separati da un'interruzione forte ecco perché per collegare questi tre pezzi c'è bisogno del a presto a presto a presto a presto